è iniziata la festa delle offerte prime e con questa 48 ore di offerte imperdibili offerte lampo, offerte a tempo, migliaia di prodotti in offerta è quindi un'opportunità incredibile per risparmiare e per avere finalmente il prodotto che desideriamo da tempo prima di dirti questa mega offerta ti devo precisare due cose per prima cosa se non hai tempo, se non hai voglia di seguire tutte le offerte prime ti invito a iscriverti al mio canale telegram o a seguirmi su instagram perché la condivido davvero tutte le migliori offerte, le offerte lampo, le offerte a tempo che magari non si avrebbe il tempo di seguire la seconda cosa importante è che questo è un evento dedicato ai clienti prime ma se tu non sei prime hai la possibilità di provare amazon prime gratis per 30 giorni come? cliccando sul link che ti lascio giù in descrizione e quindi avendo la possibilità davvero di testare tutti questi benefici prime video, gaming, l'anticipazione delle offerte lampo, spedizione veloce e gratuita ovviamente insomma davvero tantissimi benefici detto questo andiamo subito al nocciolo della questione questo video è la risposta a tutte le domande che mi fate durante l'anno e cioè hai codici sconto dedicati? hai un extra sconto per noi? la risposta è sì la Tineco mi ha dato questa grande opportunità solo per voi di un 5% extra di sconto da applicare alle lavapavimenti in questo caso alla S5 e la S7 ovviamente in occasioni come queste i pezzi sono limitati quindi il mio consiglio è quello di non aspettare la fine delle 48 ore ma se sei sicura e sei certa di questo acquisto di farlo assolutamente il prima possibile il link che io ti metto in descrizione è quello giusto perché molte volte le pagine cambiano quindi giù in descrizione trovi il link che ti consente poi di aggiungere il codice sconto ti dico che la lavapavimenti ti cambia la vita e infatti è un elettrodomestico richiestissimo davvero può sostenere e ti può cambiare la routine della pulizia quotidiana ti cambia la vita perché fai il lavoro sporco per te ti cambia la vita perché aspira sia solidi che liquidi ti cambia la vita perché si lava da sola ti cambia la vita per tantissimi motivi e io penso che ogni casa dovrebbe averla in dotazione ora questo non è un video recensione quindi non ti dirò tutte le caratteristiche ti accennerò più o meno alle caratteristiche che differenziano le due lavapavimenti anche perché trovi dei video dedicati quindi un video dedicato all'S5 e un video dedicato all'S7 ti dico però che l'S5 è in assoluto la lavapavimenti più richiesta del latineco perché specialmente in questi casi ha un rapporto qualità prezzo eccellente e soprattutto soddisfa le esigenze di tutti perché ha delle caratteristiche incredibili nei video ti faccio vedere esplicitamente come la lavapavimenti aspira sia solidi che liquidi e che soprattutto in entrambi i modelli ha la modalità di rilevazione automatica dello sporco quindi quando trova maggiore sporco sul pavimento intanto aumenta la potenza e poi regola anche la potenza dell'acqua hanno delle piccole caratteristiche che le differenziano ma ti posso dire per esempio che l'evoluzione che è l'S7 ha le ruote super motorizzate che quindi ti accompagnano e intuiscono la direzione dove tu stai andando azionando proprio delle ruote che vanno da sole ha la luce che è una particolarità a cui io tengo tantissimo perché per me è fondamentale che ti fa vedere ciò che a occhio nudo non vedresti mai la S7 anche ha la produzione di acqua elettrolitica perché ha la modalità ultra e l'acqua elettrolitica ti consente di avere un maggiore potere pulente sul pavimento in più ha tutta quella tecnologia che nel tempo si sviluppa e quindi il display digitale e quindi la modalità di sola aspirazione che mi ha salvato dall'allagamento della cucina il piccolo raschietto in silicone che consente una pulizia del rullo maggiore perché lo strizza e lo centrifuga mentre lo lava e poi ha due modalità di autopulizia per quanto riguarda l'autopulizia ovviamente anche la S5 si lava da sola quindi questo ti solleva davvero tantissimo dalla pulizia che poi in genere si deve fare quando si usa uno strumento invece le lavapavimenti Tineco non soltanto lavano il rullo in maniera approfondita ma lavano anche tutti i canali interni quindi la macchina è proprio lavata totalmente anche dall'interno e quindi se da tempo stai cercando una lavapavimenti che abbia una buona azienda alle spalle che ti dia una buona garanzia che sia efficiente che faccia un buonissimo lavoro e in questo caso puoi averla anche super scontata questa è l'occasione giusta ricordati che il tempo è limitato e anche i pezzi sono limitati e quindi come sempre io ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video ciao